il Comune abbiamo organizzato questo incontro che per noi è estremamente importante, quindi ringrazio il Comune di averci ospitato in questo bellissimo teatro e ringrazio voi di averlo riempito. Abbiamo un ospite straordinario che è Piero Terracina, grazie di essere qui, è già stato qui due anni fa, quindi alcuni di voi forse lo avranno già sentito. Chi è Piero Terracina? Bene, la sua storia la racconterà meglio lui, intanto io vi do qualche informazione per capire meglio il suo racconto. Il 16 ottobre del 1943 i nazisti insieme ai fascisti italiani hanno rastrellato il ghetto di Roma, hanno arrestato e deportato in Polonia da Auschwitz 1259 persone, di queste 1259 persone solo 12 sono ritornate a casa. A quell'epoca Piero Terracina non aveva nemmeno 15 anni, in realtà non è stato deportato insieme a quelle 1259 perché lui e la sua famiglia inizialmente erano riusciti a nascondersi, però qualche mese dopo un delatore, una spia appunto, li ha denunciati e quindi nell'aprile del 1944 anche loro sono stati arrestati e deportati, prima sono passati da Fossoli, qui vicino a noi in provincia di Modena, un campo di transito e poi destinazione nel maggio del 1944 a Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau dove tra il 1941 e il 27 gennaio del 1945 sono state uccise oltre un milione e centomila persone. Birkenau non è solo un campo di prigionio, un campo di concentramento, ma è soprattutto, anzi è un campo di sterminio, anzi è stato il più grande campo di sterminio di tutto il sistema concentrazionario nazista. È stato un campo pensato e nato e creato e realizzato per portare a termine quello che i nazisti chiamavano la soluzione finale del problema ebraico, della questione ebraica, cioè la messa a morte di tutti gli ebrei d'Europa. Potete quindi capire che le dimensioni di Auschwitz-Birkenau erano immense. Auschwitz ha un'area di 2 chilometri per 2,5 chilometri, tutto il campo era circondato da filo spinato elettrificato e ogni giorno moltissimi prigionieri si buttavano addosso per cercare una morte che fosse più sopportabile della vita che ai prigionieri era riservata dentro al campo. Auschwitz-Birkenau viene installato nei pressi di un piccolo paese che i tedeschi nominarono appunto Birkenau, che è un nome in realtà molto bello perché significa campo di betulle, perché appunto c'erano molte di queste piante e si trova a circa 3 chilometri dal primo campo Auschwitz, quello che siamo abituati a immaginare, che in realtà era una caserma, un'ex caserma polacca a pochi chilometri da Auschwitz, che è una cittadina a qualche decina di chilometri da Cracovia. Perché abbiamo anche quest'anno invitato nuovamente Piero Terracina qui a Parma? Perché l'anno scorso abbiamo invitato Gilberto Salmoni, perché abbiamo invitato altri testimoni della Shoah? Perché lui, come appunto queste altre persone che abbiamo invitato, per decenni sono state in silenzio, non hanno avuto la forza, il coraggio, la voglia di raccontare quello che hanno vissuto. E però negli ultimi anni hanno dedicato gran parte della loro vita, gran parte delle loro giornate invece a raccontare. A raccontare le loro vicende, che sono vicende che a noi fanno capire una cosa ben precisa, cioè l'abisso di intolleranza in cui l'umanità è caduta 70 anni fa. E noi crediamo che questa loro testimonianza sia molto importante per un'epoca come la nostra. Cioè un'epoca in cui quello stesso spettro di intolleranza ha ricominciato ad aggirarsi tra le nostre giornate, a girarsi nelle nostre vite, a girarsi, a conquistare anche i nostri cuori. Quello che è successo due giorni fa a Macerata è piuttosto evidente, ce lo racconti in modo piuttosto evidente. Piero per noi rappresenta una delle pagine più brutte della storia che abbiamo alle spalle, rappresenta appunto una delle pagine più oscure di un passato che però noi siamo abituati a leggere sui libri, che siamo abituati a vedere nei film, insomma che sempre di più ci stiamo abituando a considerarlo distante, appunto lontano. Però vedete Piero è qui. Piero è qui, c'è, esiste ancora, è reale e non è né un'immagine né un racconto lontano. Questo significa più cose secondo me. Intanto significa che il suo passato non è così distante da noi, non è così lontano. Noi stiamo, non stiamo parlando di un tempo o di qualcosa da cui ormai siamo immuni. Un'altra cosa che significa questo è che dal suo racconto noi capiremo che quel passato che per noi è così drammaticamente straordinario, in realtà non aveva nulla di eccezionale. Tutto è avvenuto con una normalità che è sorprendente, quella stessa normalità che accompagna le nostre vite. E quindi è proprio qui che io vorrei invitarvi tutti a pensare, dai più piccoli ai più grandi e dai bambini ai ragazzi che affollano questa sala, a pensare che forse è proprio su questo, è sulla normalità che accompagna le nostre vite, che noi dovremmo ragionare e che forse dovremmo capire che ormai è il momento, anche qui nella nostra piccola vita normale, di porre un limite alla nostra intolleranza, di porre un limite ai nostri malumori di pancia, di porre un limite al nostro desiderio di dare dei giudizi affrettati o di avere delle soluzioni semplici alle cose, di sperare che le cose si possano risolvere facilmente. È il momento di fermarci, di non accettare più i pregiudizi, di non tollerare più il qualunquismo, di non accettare più le violenze razziste come quelle accadute a Macerata due giorni fa, di non accettare più che vengano eretti dei muri, che ci siano persone respinte, che ci siano persone che affogano in mare. Tutto questo secondo me noi dovremmo cominciare a non tollerarlo più. Cioè è il momento di capire questo racconto, ci fa capire che è ora di darci un limite, che ci deve essere un limite a tutto questo, perché oltrepassarlo può essere molto pericoloso. 70 anni fa questo limite è stato superato e Piero è qui a raccontarci il modo in cui questo limite è stato superato. Io credo che dovremmo appunto fermarci prima. Per noi la voce di Piero è proprio la voce che ci può raccontare che cosa c'è oltre il limite che tutti quanti noi stiamo rischiando di superare. Detto questo, il racconto di Piero sicuramente colpirà la vostra emotività, sicuramente scatenerà anche commozione, sofferenza, perché è inevitabile sentirsi partecipi di un racconto di storia, di una storia così dolorosa, perché trovarsi di fronte a una persona come lui che ha vissuto l'orrore del lager può essere anche molto coinvolgente, perché siamo di fronte a qualcosa che lo capirete, è molto delicato. Piero non solo è una persona ormai molto anziana, ma è anche una persona che ha un vissuto dentro di sé, che lo rende qualcosa di estremamente fragile. Per questo vi chiedo di avere il massimo rispetto per questa fragilità. Vi chiedo quindi di mettere via tutti i vostri telefonini, di abbandonarli, di non avere bisogno di loro per quella mezz'ora in cui Piero ci parlerà. Vi chiedo di concentrarvi sulla sua fragilità e appunto di averne grande rispetto. Alla fine dell'incontro ci sarà sempre un po' di gelo, ci sarà sempre perché di solito quando di fronte a racconti come è suo uno ha paura di dire la cosa sbagliata, ha paura di dire una banalità, ha paura di non essere adeguato nel fare domande. Però so che tutti gli anni poi c'è sempre qualcuno che trova il coraggio di rompere il ghiaccio e quindi so che anche quest'anno andrà così. L'ultima cosa che volevo dirvi prima di passare la parola a Piero è che come Centro Studi Movimenti stiamo organizzando come ogni anno un viaggio sui luoghi della Shoah e dello sterminio e quest'anno la nostra meta tra settembre e ottobre sarà Berlino. Berlino e visiteremo i campi di Ravensbruck e di Sachsenhausen. Quindi se qualcuno di voi è interessato può lasciare la sua email nel tavolo nel foyer oppure può scriverci per avere informazioni. intanto passo la parola a Piero e vi ringrazio. Buon poporiggio a tutti. Vi ringrazio, vi ringrazio di cuore per il saluto che mi avete rivolto quando sono arrivato. Evidentemente sapete chi sono, probabilmente conoscete anche se non completamente, conoscete anche qualche cosa della mia storia. Raccontare le vicende che io ho vissuto quando ero un primo bambino, poi un ragazzo, è difficile raccontarlo, ma ritengo che sia anche difficile ascoltare i fatti che io ho vissuto appunto quando ero un adolescente. Io vi devo parlare di morte, purtroppo, perché questo era. Vi devo raccontare quello che io ho vissuto allora e non è facile, ripeto, non è facile neppure ascoltare questi racconti. Io in pratica vi devo raccontare l'inferno. Non si tratta dell'inferno che c'è racconta Rodante, non si tratta dell'inferno delle religioni, si tratta di un inferno creato dagli uomini qui su questa terra. Posso dire anche che per costruire quell'inferno dove c'erano c'erano i dannati, che eravamo noi prigionieri, c'erano praticamente non solo i dannati, c'erano anche gli SS, i capo praticamente che erano quelli che portavano, davano la morte. Devo raccontarvi la mia storia, ma la mia storia non inizia da quella sera del 7 aprile del 1944, quando le SS tedesche, accompagnate da due ragazzi e due giovani, due giovani italiani, due giovani fascisti che avevano scoperto il nostro nascondiglio e accompagnarono le SS fino sulla porta della casa dove eravamo rifugiati. La mia storia non inizia quella sera del 7 aprile del 1944, ma inizia molto prima, e precisamente nel 1938, quando il 5 settembre 1938 il Gran Consiglio del Fascismo si riunì e decretò, emise il primo reggio, decreto legge denominato per la difesa della razza nella scuola fascista. Io ero un bambino, avevo frequentato la quarta elementare, dovevo andare, avevo superato la quarta elementare, dovevo andare in quinta elementare, avevo una brava insegnante, era un insegnante che era preso dalla prima elementare, eravamo arrivati fino alla quinta, un insegnante con la quale indubbiamente era nato anche un rapporto affettivo. Ebbene, iniziò l'anno scolastico, sembrava che io potessi continuare a frequentare quella scuola, però in orari diversi da quelli degli altri bambini. Cioè devo frequentare, qualora fosse stato possibile formare delle classi di soli all'unni ebrei della quinta elementare, io avrei voluto iniziare e continuare gli studi in quella scuola. Accadde però un fatto che non si riuscì a raggiungere il numero minimo degli scolari e potessero frequentare la quinta elementare e quindi io praticamente da quell'insegnante, un insegnante che mi voleva bene, un insegnante a cui volevo bene perché naturalmente avevamo passati insieme quattro anni dalla prima alla quarta elementare, nasce anche tra l'alunno e l'insegnante, nasce anche un rapporto affettivo. Invece il 15 novembre esattamente, l'insegnante, quell'insegnante che mi voleva bene, a cui volevo bene, fece l'appello, non chiamò il mio nome e soltanto alla fine disse Terracina non puoi più frequentare questa scuola. Io domandai perché, che cosa ho fatto? E lei mi rispose soltanto due parole. Sei ebreo. era un insegnante fascista, evidentemente, e quindi si era adeguata alle nuove disposizioni emanate dal Gran Consiglio del Fascismo e firmate dal re Vittorio Emanuele III, controfirmate dal re Vittorio Emanuele III. Quindi, praticamente, alla mia domanda, perché, che cosa ho fatto? Ripeto, la risposta fu questa, sei ebreo. Come che essere di una religione diversa da quella della maggioranza fosse una colpa talmente grave da dover essere estromesso dalla scuola. Posso dire, posso dire che, però, sotto certi versi fu la mia fortuna. Io andai a frequentare la scuola ebraica, che già esisteva per gli elementari, finì la quinta elementare in quella scuola, passai alle scuole medie ed era una scuola davvero straordinaria. Era straordinaria, intanto, perché tutti gli insegnanti erano stati mandati via da tutte le scuole del regno e quindi era stato possibile formare un corpo insegnante davvero molto valido. Addirittura c'erano alcuni docenti universitari che venivano a fare lezione ai ragazzi delle scuole medie, quindi io ho sempre ragionato molto su questo fatto. Io credo che la cacciata degli ebrei dalla vita pubblica, cioè non soltanto perché quello della scuola fu soltanto il primo provvedimento al quale poi ne eseguirono un'infinità di altri che in pratica rendevano la vita, se non è impossibile, davvero molto molto difficile. Ora, vicevole era l'inferno, l'inferno dove arrivavano continuamente, arrivavano ogni giorno trasporti da tutta l'Europa e l'80%, attenzione a questi numeri, l'80% e oltre l'80% veniva mandato immediatamente a morire per gas e date le fiamme dei forni crematori. per fare dei numeri precisi, perché attenzione io non sono uno storico, sono un testimone, però so perfettamente quello che dico e quello che dico è quello che si è verificato allora. Ora, dovete pensare che il, faccio un passo avanti e poi ritornerò indietro, che il 16 ottobre del 1943 ci fu una razzia degli ebrei romani, fono arrestate 1.252 persone, con il 230, vennero rilasciate perché riconosciute che non erano ebrei. Ne rimassero 1.022 che il giorno dopo diventarono 1.023 perché una giovane donna ebrea, Marcella Perugia si chiamava, detta alla luce un bambino. Ebbene, il 17 ottobre furono tutti portati alla stazione di Burtina di Roma stipati nei carri bestiame, arrivarono il 23, il giorno 23 ottobre arrivarono nel lager di Auschwitz a Biskenau, superarono la selezione dell'arrivo esattamente 147 uomini e 47 donne, quindi uno scarso 20%. Tutti gli altri, uno scarso 20%, attenzione a queste cifre, tutti gli altri, tutti, la sera stessa erano stati assassinati per gas e ridotti in fumo e cenere. Ora faccio un passo indietro, ritorno alla scuola ebraica perché devo dire che la scuola ebraica fu per me e per noi ragazzi dell'epoca fu davvero molto 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 importante. Era una scuola che funzionava bene, funzionava bene perché intanto c'era degli insegnanti molto validi, dall'altra parte erano stati mandati via da tutte le scuole e da tutta Italia e quindi formare un corpo insegnante valido non era stato difficile. Quindi praticamente era una scuola che funzionava bene anche e soprattutto ritengo per merito del preside di quella scuola. Il preside non era ebreo, era stato mandato dal ministero per controllare questi nemici della patria come venivamo considerati. Devo dire che era un uomo, un giovane professore napoletano, mi ricordo il nome, si chiamava Nicola Cimmino, era davvero un uomo straordinario. Parlava spesso con noi ragazzi, diceva, ricordo le sue parole, quando diceva vedete ragazzi, le leggi razziali vogliono far credere che appartenete a una razza inferiore. io so che non è vero. Siete esattamente uguale a tutti gli altri ragazzi che io ho conosciuto durante la mia carriera di professore, prima di preside poi. Siete esattamente come tutti gli altri ragazzi, ma voi lo dovete dimostrare. Era uno stimolo che ci dava questo professore che davvero contava, contava davvero molto. Un'altra, voglio fare un'altra considerazione subito. Furono mandati via da tutte le scuole e anche dalle università tutti i docenti universitari di religione ebraica. Ebbene, io credo che questo sia stato davvero un atto di autolesiosismo per la scienza e per la cultura italiana. Se pensate che dopo la guerra quattro di questi docenti universitari che erano stati mandati via dalle università italiane furono insigniti dal premio Nobel e ve li elenco. Emilio Segret, premio Nobel per la fisica, Salvatore Edoardo Luria per la fisiologia, Franco Modigliani per l'economia e questi tre professori erano riusciti ad espatriare e raggiungere gli Stati Uniti dove naturalmente avevano ottenuto immediatamente una cattedra nelle varie università degli Stati Uniti. Poi Rita Levi Montalcini che non espatriò. Lei stessa disse che aveva continuato le sue ricerche nella cucina di casa e dopo la guerra è stata anche lei insignita del premio Nobel per la medicina. non solo. Pensate che Albert Einstein che è considerato il più grande scienziato del ventesimo secolo. Ebbene Albert Einstein era membro dell'Accademia dei Lincei. Fu messo fuori con una lettera di due righe dall'allora presidente che era professor Milosevic, non aveva un nome italiano però era italiano. Fu messo fuori Albert Einstein e fu messo fuori dall'Accademia dei Lincei. Quindi io credo, ripeto, che fu davvero un atto di autolesionismo per la scienza e per la cultura italiana. Ora, naturalmente, attenzione, io con quello che vi sto dicendo, non voglio assolutamente dire che gli ebrei sono più intelligenti degli altri. Assolutamente no. Ma uguali. Ne più e ne meno. Ecco, oggi ci sono tra noi ci sono altre minoranze. Va bene. Perché dobbiamo considerarli esseri inferiori quando sono esattamente e precisamente uguali a tutti quanti noi? Ecco, questo dobbiamo sempre ricordarlo e sempre tenerlo presente. Comunque, vi dicevo che la mia storia non iniziò quella sera del 7 aprile, ma iniziò molto prima, esattamente nel 1938, quando vennero emanate le leggi razziali. Ora, le leggi razziali non proibivano agli ebrei soltanto di studiare, ma praticamente era vietato agli ebrei di vivere. Perché? Furono tutti i lavoratori, posso dire, di religione ebraica furono messi fuori da tutta e da qualsiasi attività. Pensate, furono cancellati da tutti i dialbi professionali. Quindi praticamente un ingegnere non poteva fare, un ingegnere, un medico non poteva fare, un medico e dovevano cercarsi, perché avendo un altro lavoro, lavorare soltanto nell'ambito della comunità ebraica. Ecco, a questo proposito io ho un ricordo, un ricordo preciso, ricordo un giorno mio padre venne a casa, era ancora emozionato. Quella mattina era stato in tribunale ad assistere a un processo contro un medico ebreo che era stato accusato di aver curato una bambina ariana. ariana, attenzione, ecco, è la prima volta che dico questo, gli italiani, la razza italiana non era più italiana, erano ariani, venuti chissà da dove e da dove, e comunque venivano considerati cose. Quindi gli altri erano razzi inferiori, la razza ariana era la razza superiore. Era accaduto questo, una bambina stava male, la madre disperata corse a chiamare un medico, trovò questo medico e questo medico era ebreo. Un medico fedele al giuramento di Ippocrate, che deve fare al momento in cui riceve la laurea, e fedele al giuramento di Ippocrate, andò a visitare questa bambina. Questo medico nel tribunale fu assolto, fu assolto perché anche il pubblico ministero aveva preso le sue difese e aveva detto che aveva agito in stato di necessità e quindi non era punibile. Ma pensate, dover subire un processo per aver salvato la vita una bambina. Ma questo era. Ora, era proibita qualsiasi attività. Pensate, gli ebrei non potevano fare gli venditori ambulanti. Soltanto a Roma, 800 capifamiglie ebrei vivevano di questo povero mestiere. Ma un venditore ambulante, che cosa si mette a fare se gli vietano di fare quel lavoro, di uscire la mattina con il carrettino a mano, andare negli angoli delle strade o nei mercati per vendere le proprie mercanzie? Ebbene, fu vietato anche questo. Un'altra norma assolutamente assurda. Era proibito agli ebrei fare un bagno al mare. Ma perché? Ma che avremmo voluto comunicare con i segnali dalla riva? Avremmo voluto comunicare con il nemico? Quale poteva essere il motivo per cui agli ebrei venivano proibiti di fare un bagno al mare? Cioè, tutte le coste della penisola e delle isole erano state dichiarate di importanza strategica e tutte le località di importanza strategica erano vietate agli ebrei. ma non soltanto le coste, quindi c'era proibito fare un bagno al mare, ma anche tante altre località. Io ricordo bambino quando il medico disse a mia madre, beh guardi come porti qualche giorno fuori, perché non va a Soriano, Soriano del Cimino, una località vicino a Roma, a 700 metri d'altezza, c'è l'aria buona, qualche giorno lì farà bene, lì farà bene senz'altro. E ricordo che noi arrivavamo lì, andammo, prendemmo alloggio in una pensione, mi ricordo anche il nome, pensione Carolino si chiamava, la mattina dopo arrivò il maresciallo dei carabinieri, signora lei deve partire, deve ripartire con il primo treno per Roma, perché qui non ci può stare. Ricordo che mamma le disse, ma perché? Ma che cosa c'è di importanza strategica a Soriano del Cimino? Non c'era assolutamente niente, sì, c'è un penitenziario, un penitenziario però che è il vecchio castello della cittadina, che ha le mura larghe 7 metri e alte non so quanto, e quindi praticamente certamente non si entra e non si esce. Ebbene, noi dovemmo abbandonare la pensione Carolino e ritornare a Roma. Ma i divieti erano tanti, pensate, gli ebrei, ecco, un'altra assurdità. Attenzione, queste che sto dicendo sono leggi, sono leggi pubblicate anche allora sul gazzetto ufficiale, quindi anche oggi ognuno può andare lì a vedere che cosa è accaduto in quel periodo. Ebbene, agli ebrei praticamente era vietata qualsiasi attività, pensate addirittura a non poter vendere carte da gioco, assurdo, non poter vendere lane da materassi, materiali ferrosi. Queste sono tutte leggi scritte nelle gazzette ufficiali dell'epoca, che oggi uno le può ritrovare andando negli archivi a cercarle. Lo scopo qual era? Era quello soltanto di rendere la vita di noi, di religione ebreia, di rendere la vita impossibile. Ora, possiamo pensare, ma perché non c'è stata nessuna reazione? No, non c'è stata. Non c'è stata nessuna reazione da parte della cittadinanza italiana. Mussolini aveva parlato, Mussolini ha sempre ragione. Questo diceva la propaganda fascista. Ecco, mi rivolgo particolarmente a voi giovani, fate bene attenzione, non esiste, non esisterà mai l'uomo della provvidenza, non esisterà mai quello che riesce a sistemare tutte le cose che non vanno bene. Purtroppo ci sono diverse. Quando ci sono delle difficoltà, le difficoltà si possono superare, ma si possono superare soltanto con l'aiuto di tutti. Devono contribuire tutti i cittadini per poter sistemare quello che non va bene. Ebbene, invece allora no. Allora era soltanto quella della parola del Duce, era legge, quello che diceva andava bene, e purtroppo andava bene anche la persecuzione e contro noi ebrei. Il tempo passava, io crescevo, arrivamo così al 1942. Il 10 giugno del 1942 Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia annunciò agli italiani, la piazza era gremita, era gremita di gente, annunciò agli italiani che aveva consegnato la dichiarazione di guerra agli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra. Fu l'inizio della catastrofe. Fu l'inizio della catastrofe perché l'Italia non era assolutamente preparata a fare una guerra, ma lo scopo qual era? Lo scopo di queste norme, di queste leggi. Lo scopo era quello praticamente di come la Germania voleva dominare il mondo, l'Italia voleva partecipare alla dominazione del mondo intero e invece fu la catastrofe. L'Italia il 10 giugno del 1940 entrò in guerra, la piazza Venezia era gremita di gente, gente esultante, ma si può esultare per una dichiarazione di guerra? Possibile che nessuno ha ragionato, nessuno ha pensato che in guerra si muore, in guerra si muore e si moriva tanto più in guerra gli italiani che non erano assolutamente preparati a fare una guerra a potenza e quali erano l'Inghilterra e gli Stati Uniti e prima ancora la Francia. Questo era. Quindi per noi, ripeto, per noi ebrei la vita era diventata era diventata assolutamente impossibile cioè non avevamo più la possibilità di era difficile procurare un reddito in modo che potessero che le famiglie potessero continuare a vivere. Pensate la mia famiglia era composta di otto persone c'erano i genitori avevo due fratelli e una sorella più grandi di me c'erano anche i nonni paterni che vivevano con noi otto persone in famiglia otto persone in famiglia naturalmente occorreva quello che può servire per otto persone e papà e persi il suo lavoro cercò di adattarsi a fare dei lavori che non erano che non erano i suoi e non riusciva ad andare avanti io ricordo il ricordo il suo stipendio lui aveva trovato un lavoro che gli era stato offerto io dico che gli era stato offerto soltanto per solidarietà aveva trovato un lavoro e guadagnava 850 lire al mese non erano pochi 850 lire pensate che allora era in voga una canzone che diceva se potessi avere 1000 lire al mese farei tante spese comprerei tra tante cose le più belle che vuoi tu quindi 850 lire non erano poche ma non bastavano per le otto persone della famiglia allora fu indispensabile che i miei fratelli e mia sorella che erano più grandi di me lasciassero la scuola e cominciassero a cominciassero a lavorare per contribuire al mantenimento della famiglia devo dire che queste difficoltà a me non venivano fatte arrivare io ero il più piccolo ero protetto dall'affetto di tutti continuavo a studiare nella scuola ebraica i risultati nella scuola erano certamente soddisfacenti io ricordo mamma che ci spronava sempre a noi figli ragazzi date vita fare la vita difficile però se riuscirete nello studio certamente riuscirete anche nella vita però poi questo questa esortazione in un certo momento era rivolta soltanto a me perché i miei fratelli e mia sorella furono costretti a abbandonare gli studi e cominciare a lavorare e contribuire al mantenimento della famiglia posso anche dire un'altra cosa per me quello fu un periodo felice non avevo più gli amici della scuola pubblica erano spariti tutti ma avevo gli amici della scuola ebraica si erano formati dei gruppi andavamo avevamo tutti la biciletta e il fine settimana guidati sempre da qualche genitore andavamo a fare delle grandi passeggiati e fuori città in biciletta erano delle delle comitive molto 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 unite avevamo trovato anche un campo di calcio noi non potevamo far parte di associazioni culturali e sportive però c'era un campo di gioco mi ricordo il campo il franco baldini si chiamava che era la periferia di roma il quartiere san lorenzo ricordo che il custode di questo campo ignorava completamente le disposizioni del fascismo e ci affittava il campo di calcio e noi potevamo anche fare una partita una partita a pallone devo dire che appunto per questo fu poi faccio un passo avanti posso dire questo che i miei amici i miei amici della scuola ebraica sono stati la mia salvezza quando io sono tornato dall'inferno e mi sono ritrovato solo e disperato non avevo più nessuno delle otto persone della mia famiglia non c'era più nessuno sette persone della mia famiglia perché nonna per fortuna dico io era mancata pochi giorni prima che venissima arrestati però si è raggiunto a noi uno zio perché adesso vi racconto come è avvenuta la nostra la cattura della nostra famiglia ricordo noi dall'otto settembre 1943 dovevamo abbandonare cioè non subito esattamente dal 16 ottobre quando ci fu la prima razzia a Roma degli ebrei dovevamo abbandonare le nostre case e cercare dei rifugi riuscimmo a trovarle troviamo un appartamento dove andarono i miei fratelli mia sorella cioè mia sorella i miei genitori il portiere di quello stabile si presi in casa sua i miei nonni era un eroe quel portiere perché rischiava davvero tanto fosse stato scoperto che ospitava degli ebrei probabilmente avrebbe seguito la sorte di tutti gli ebrei ai miei fratelli a me quello stesso portiere ci aveva aperto le porte di una cantina dove la notte andavamo andavamo a a dormire la mattina appena svegli salivamo nell'appartamento per lavarci per cambiare la biancheria per mangiare qualche cosa ma poi subì di strada perché subì di strada perché non avevamo più mezzi per vivere era passato l'8 settembre 1943 l'Italia tutta l'Italia centro-settentrionale era stata invasa dalle truppe tedesche e il centro-sud invece era stato liberato dalle truppe alleate Roma era stata occupata dalle truppe tedesche il 28 settembre del 1943 il comandante dell'ESS a Roma Herbert Kappler convocò i responsabili della comunità ebraica al comando tedesco impose loro il versamento di 50 chili d'oro che se non fossero stati versati 200 capifamiglie ebrei questo disse Kappler sarebbero stati deportati in Germania fu una corsa contro il tempo trovare 50 chili di oro nella comunità ebraica romana era assolutamente impossibile quello che c'era di valore nelle case degli ebrei era già stato venduto non non avevamo più niente dovevamo pur vivere mancava il lavoro e dovevamo pure pur vivere quindi quello che c'era di prezioso era già stato era già stato venduto però si verificò un fatto straordinario quella solidarietà che il il 5 settembre del 1938 la manazione delle leggi razziali era venuta a mancare si risvegliò tanto è vero che i 50 chili d'oro furono trovati entro tra i 36 ore stabilite grazie all'aiuto di tanti non ebrei che portarono il loro contributo per raggiungere il quantitativo Herbert Kappler comandante dell'LSS a Roma disse che gli ebrei non avevano niente da temere potevano vivere tranquillamente nelle loro case perché avevano pagato il riscatto che era stato richiesto e non sarebbero state fatte altre richieste invece come vi ho detto prima il 16 ottobre 1943 le SS tedesche coadiuvate da alcuni reparti della polizia italiana la PAI si chiamava allora circondarono il ghetto di Roma entrarono in tutte le case e portarono via tutti sani malati vecchi vicino al traguardo della vita neonati portarono via tutti alla sera avevano arrestato 1232 persone le portarono al collegio militare di Roma 230 vennero rilasciati perché riconosciuti che non erano di religione ebraica però divennero 1020 invece di 1223 perché Marcella Perugia una giovane mamma una giovane donna italiana ebrea detta alla luce un bambino implorarono tutti che fosse ricoverata la mamma e il picco all'ospedale di Santo Spirito che era a 100 metri e a 300 metri dal Vaticano non ci fu niente da fare il il 18 ottobre furono portati tutti alla stazione di Burtina stipati sui carri bestiame che partirono per ignota destinazione arrivarono ad Auschwitz e Bitz-Birkenau il il 23 ottobre nel 1943 vi ho detto che superarono la selezione dell'arrivo 147 uomini e 47 donne quindi uno scarso 20% tutti gli altri tutti gli altri la sera stessa erano stati ridotti in fumo e cenere compreso quel bambino ancora senza nome e la e la sua mamma con la mia famiglia riuscimo quel giorno quel giorno della rassia riuscimo come ho detto riuscimo a scampare i miei nonni trovarono rifugio nella casa del portiere il portiere aveva le chiavi di un appartamento arredato ma che non era abitato e dette le chiavi dove andarono i miei i miei genitori e mia sorella e io e i miei fratelli la sera andavamo a dormire nella cantina ma il giorno non potevamo rimanere nascosti il giorno dovevamo necessariamente uscire per procurarci i mezzi per vivere i rischi erano tanti i rischi erano che fossimo riconosciuti da qualcuno e venduti alle SS che pagavano un compenso di 5.000 lire per ogni ebreo che veniva fatto a restare per essere mandato per essere mandato a morire fu un periodo noi quel giorno riuscimmo a scampare alla cattura ripeto i miei nonni nella casa del portiere i miei fratelli e io in una cantina i miei genitori e mia sorella in un appartamento ripeto il giorno andavamo in giro per la città acquistavamo qualsiasi cosa si trovasse da poter commerciare da poterla vendere l'acquistavamo ricordo della mette da barba del filo del filo da cucire del filo da imbastire degli articoli di merceria cose di poco valore ma allora tutto serviva quindi non era difficile andare a vendere in qualche altra parte della città la mattina del 7 aprile del 1944 quando salimmo con i miei fratelli dalla cantina all'appartamento papà disse ragazzi questa sera è pesach pesach è una parola ebraica che significa Pasqua la Pasqua ebraica è una festa molto importante d'altra parte se voi vedete anche i dipinti dell'ultima cena di Gesù anche Gesù solennizzava la Pasqua perché naturalmente professava allora professava la religione la religione ebraica papà disse perché non stiamo insieme questa sera facciamo il seder che è la cena pasquale leggiamo la gata che è il rituale della Pasqua poi ognuno ritornerà ritornerà nel nel proprio nel proprio rifugio non c'era più mia nonna mia nonna aveva avuto un malore non so con quale mezzo papà era riuscito a portarla in ospedale ma dopo qualche ora io dico per fortuna nonna non era morta si può dire per fortuna quando muore una persona cara eh sì si può dire perché quante sofferenze le sono state risparmiate che è morta pochi giorni prima che noi venissimo venissimo arrestati quando papà ci fece questa proposta di celebrare insieme la Pasqua ebraica noi accettiamo con gioia e la sera ci ritrovammo tutti intorno alla tavola per recitare le preghiere e per fare la cena il seder cioè la cena pasquale a noi si era giunto un fratello di papà uno zio fratello di papà che era venuto per farci gli auguri saputo che avremmo ehm celebrato la Pasqua era voluto rimanere dice poi domani mattina ritornerò finito il coprifuoco ritornerò nel mio rifugio mentre eravamo intorno alla tavola recitando le preghiere bussarono la porta andò ad aprire Anna mia sorella rientrò nella sala da pranzo era sconvolta dietro di lei due SS armati come che andassero a un'azione di guerra avevano mitra imbracciati e nella cintura avevano la cintura con le bombe con le bombe a mano e venivano a restare la più pacifica delle famiglie che credo che il l'arma che potevamo avere al massimo poteva essere un coltello in cucina ma niente certamente niente niente di più di quello cominciarono prima a parlare in tedesco ma chi li capiva poi uno tirò fuori un foglio lo consegnò a papà c'era scritto 20 minuti di tempo e dovete essere fuori non ci dissero dove ci avrebbero portato niente assolutamente niente furono momenti di assolutamente di assoluto smarrimento 20 minuti di tempo ma 20 minuti di tempo cosa cosa si porta via cosa si prende vedo qui da voi molti ragazzi molti giovani quando dovete andare a fare una gira scolastica o a fare una gira quanto tempo impiegate per per preparare uno zainetto 20 minuti di tempo e dovete essere fuori attenzione sulla porta di casa era rimasto un'altra ss armato come gli altri e un fascista che li aveva accompagnati fino sulla porta di casa ricordo che mia sorella Anna cercò di intervenire per nonno dice c'è il nonno 84 anni è rimasto vedo dopo pochi giorni a noi ci porterete a lavorare ma lui certamente non potrà farlo lasciatelo ricordo la risposta rabbiosa di questa ss indicando con la mano la porta di casa urlò raus fuori in tedesco scendemmo al portone c'era un'altra una macchina sempre con delle altre ss c'era una monosciretta con sideguard c'era un'auto ambulanza e fumo fatti salire su questa ambulanza dopo cinque minuti eravamo nel carcere di Regina Celi a Roma entrare in un carcere quanto di più sconvolgente ci sia con la coscienza di non aver commesso di non aver commesso nessun reato fumo messi faccia al muro l'obbligo di non parlare una alla volta dovevamo entrare in una stanza che era alle nostre spalle sopra c'era una scritta in italiano ufficio matricole ovvero sia l'ufficio dove dovevano registrare il nostro ingresso nel carcere una alla volta venivamo fatti entrare dentro questa porta e arrivò il mio turno c'era due guardie carcerarie uno seduto alla schivania l'altro in piedi che girava per la stanza ogni tanto si affacciava sul corridoio mi chiese nome cognome paternità maternità luogo e data di nascita poi il colore degli occhi il colore dei capelli e tutti i dati per riempire la scheda di ingresso nel carcere alla fine mi disse di imprimere l'indice della mano sinistra su un tampone di inchiostro e portarlo sotto la scheda per imprimere l'impronta digitale io esitai esitai era stato preso da una specie di di panico sapevo che l'impronta digitale venivano presi i delinquenti ma io non avevo fatto coscienza tranquilla non avevo fatto niente allora arrivò a quello che era in piedi della guardia carceraria mi prese la mano sinistra portò l'indice sul tampone di inchiostro e poi sotto la scheda di imprimere l'impronta digitale per me fu un trauma un trauma terribile io usci da quella porta per andarmi a rimettere faccia al muro usci piangendo usci singhiozzando e papà se ne accorsi allora papà sentì il bisogno di rivolgere a noi figli alcune parole non ho mai dimenticate e che posso dire che mi hanno mi hanno guidato mi hanno fatto da guida per tutta la vita ricordo che papà disse ragazzi possono accadere anzi prima ci chiese perdono e mio fratello Leo il più grande di noi disse ma papà ma cosa stai dicendo ci possono accadere fatti terribili mi raccomando qualsiasi cosa accada siate uomini non perdete mai la dignità aveva capito papà che il pericolo maggiore era quello che perdessimo la dignità ma come si fa a mantenere la dignità quando si ha fame quando si guarda con occhi supplichevoli la guzzino che ti sta versando la brodaglia con la speranza che affondi un pochino il mestolo per ricavarne qualche cosa di più solido ma dov'è la dignità la guzzino si odia la guzzino non si implora ma io ho 15 anni io ho 15 anni e non volevo morire a 15 anni si rimane aggrappati alla vita non si vuole morire pur sapendo dopo quando arrivamo in quel luogo di morte sapendo che la nostra vita non valeva assolutamente più niente e che da un momento all'altro saremmo stati assassinati come venivano assassinati migliaia dico migliaia di persone ogni giorno comunque nel carcere Ginoceli posso dire questo che trovammo davvero anche tanta solidarietà aprirono una cella io papà non mi lasciava un momento io ero più picco pensavo che potessi avere più bisogno di essere protetto ricordo che papà che quando aprirono la cella c'erano altri tre detenuti che cercarono di di fare posto per noi di lasciare più posto per noi furono davvero davvero di una grande umanità io non so per quale motivo fossero rinchiusi nel carcere di Roma questi detenuti vi assicuro che erano davvero persone straordinarie ricordo che uno il giorno dopo ricevette un pacco da casa che conteneva dei viveri e ne divise il contenuto con tutti gli altri della cella cioè ormai eravamo in cinque persone nella cella e divise il contenuto di questo pacco con tutti gli altri ecco si dice tante volte si parla dei carcerati certo se è stato un uomo una persona che è nel carcere certamente è nel carcere qualche reato lo deve aver commesso ma posso dirvi che nelle carceri esiste davvero esiste davvero tanta umanità non soltanto il caso che vi ho raccontato dei tre detenuti che erano in quella cella io sono andato negli ultimi tempi l'anno scorso due anni fa e anche quest'anno sono andato nel carcere Bibbia a Roma e a parlare ai detenuti del carcere non immaginate quanta umanità ho trovato là dentro quando io ho raccontato la mia storia erano davvero tutti quanti tutti molto molto provati sono stato anche nel nel penitenziario di Civita Vecchia vicino Roma e anche lì uguale sono esseri umani erano sbagliato certamente perché se sono lì hanno sbagliato ma quanto umanità esiste anche nelle carceri e quindi questo dovremmo tenere conto sempre ora dopo qualche giorno di permanenza nel carcere nel carcere di Ginaceli venne l'ordine di trasferimento noi non sapevamo che fosse trasferimento pochi giorni prima c'era stato l'ecidio delle fosse Ardeatine a Roma e 75 75 detenuti del proprio del terzo braccio di Regina Celito eravamo detenuti noi ne furono prelevati per essere mandati a morire alle fosse Ardeatine proprio da tutte quelle cose nel pomeriggio un pomeriggio cominciavano a chiamare dei nomi aprirono la cella dovevamo scendere nel corridoio nel carcere e aspettare altri ordini ricordo che aprirono la cella mi fecero uscire e ricordo papà che urlava attraverso lo spioncino lasciatelo lasciatelo prendete bene prendete bene non sapeva cosa si trattasse invece poi chiamarono anche lui chiamarono tutti gli altri arrivarono anche mamma e mia sorella arrivarono al carcere dal reparto femminile e ci ritrovammo la sera tutti quanti là a sera fumo fatti salire su un camion che partì verso il nord della città si fermò a pochi chilometri dal centro della città esattamente in località prima porta fermarono i camion e cominciarono a urlare a urlare in tedesco ma nessuno nessuno li capiva e ci spingevano con i calci dei mitra dei fucili ci spingevano sotto una rupe sotto la quale si aprono delle grotte oggi è perfettamente uguale allora soltanto che adesso hanno messo una cancellata in modo che nessuno possa entrare in queste caverne che si trovano sotto sotto questa rupe urlavano e ci spingevano là sotto e noi capimmo che era arrivata la nostra fine pensavamo cominciarono a sparare faranno saltare la rupe e arrivaremo là sotto invece poi qualcuno capì dissero che avremmo dovuto viaggiare tutta la notte non si sarebbero più fermati e quindi di fare i nostri bisogni di fare i nostri bisogni viaggiamo tutta la notte la mattina dopo arriviamo a Siena poi il viaggio continuò arriviamo a Fossoli un campo italiano sorvegliato da italiani in provincia non distante da qua in provincia di Modena ecco di Fossoli ci sarebbero tante cose da raccontare ma mi racconto soltanto due episodi un episodio un episodio di solidarietà e invece un un altro episodio di estrema crudeltà l'episodio di solidarietà è questo quando quando c'erano delle precipitazioni a Fossoli si formava uno strato di fango dove era difficile camminare io ero uscito dal baracca non ricordo per andare dove probabilmente per incontrare qualche amico camminavo nel fango un certo momento tirando sui piedi mi rimase la suola della scarpa mi rimase attaccata al al fango o ne cosa ero disperato io non avevo un altro paio di scarpe non sapevo assolutamente come come avrei potuto risolvere o come i miei familiari avrebbero potuto risolvere la situazione non c'era nessun sistema per poterlo fare mentre stavo tornando devo dire piangendo stavo ritornando la mia baracca con questa scarpa senza la suola in mano incontrai un cittadino romano che quando mi vide così si dunque si chiamava Mario mi ricordo il nome Mario Spagnoletto mi disse ma che hai fatto che ho fatto mi è rimasta la suola mi è rimasta attaccata al fango e come fai adesso e che ne so non lo so proprio come fare io ero davvero disperato parliamo un po' poi lui disse beh aspetta un momento aspetta aspetta adesso vediamo un po' che cosa posso fare entrò nella baracca uscì con un paio di scarpe mi disse prova la misura e guarda se ti stanno bene la misura mi stava bene beh dice prendi tieni le scarpe vedete un episodio di solidarietà ma in quelle condizioni come eravamo lì a Fossoli è davvero un qualche cosa di dello straordinario l'altro episodio che vi ho detto di crudeltà assoluta fu questo era il primo maggio faceva caldo eravamo tutti quanti non si lavorava se non qualche lavoro saltuario lì a Fossoli e eravamo in giro per il campo si formavano dei capannelli di di nuove amicizie si parlava a un certo momento entrò un ufficiale dell'SS di una piccola guarnigione che era fuori del campo entrò nel campo di Fossoli cominciò a urlare a urlare in tedesco ma nessuno capiva ci guardavamo cosa vorrà ma cosa mai vorrà non riuscivamo a a capire poi si avvicinò a un poveretto Pacifico di Castro si chiamava Pacifico di Castro era come stava lì come tutti gli altri tirò fuori la pistola e gli sparò in testa e Pacifico che era da terra morto all'istante e lì rimase fino a sera quando arrivò un carro funebre che lo portò via e noi ci domandavamo ma che cosa ha fatto non aveva fatto assolutamente niente poi venimmo in una conclusione Pacifico portava un berretto in testa nessuno portava il cappello faceva caldo quindi non c'era necessità di un cappello Pacifico portava un berretto sembra almeno così poi siamo venuti in questa considerazione che gli avesse ordinato di togliersi il cappello in segno di rispetto non l'aveva capito e l'aveva ammazzato come un cane ecco questi due episodi ora del primo episodio che vi ho raccontato posso raccontarvi anche il seguito Mario Spagnoletto era stato deportato con il papà che si chiama Leonardo e il figlio che si chiama Leonardo quello che è accaduto dopo me l'ha raccontato un caro amico di Milano Nedo Fiano tra l'altro ha scritto anche numerosi libri sulla sua prigionia ad Auschwitz mi ha raccontato la storia di Nedo mi ha raccontato la storia di mio fratello mio fratello Cesare e mi ha raccontato anche la storia di Spagnoletto a Spagnoletto a Leonardo Spagnoletto gli avevano rubato le scarpe andò la mattina andò dal capo baracca a blocco al testa era stato trasferito insieme a mio fratello Cesare insieme a Nedo Fiano e insieme a qualche altro italiano nel campo di Hector Dingen vicino a Stoccarda a Leonardo avevano rubato le scarpe andò dal capo baracca cioè dal blocco al test in tedesco e mi hanno rubato le scarpe io come faccio ad andare a lavorare mi trovo io mi hanno trovato le scarpe per tutta risposta il blocco al test che era un era un politico polacco per prima cosa gli cominciò a bastonarlo e poi gli disse vai a lavorare ebbene non è mai arrivato non è mai arrivato nel posto di lavoro Nedo mi ha raccontato anche la storia di mio fratello Cesare che era insieme a lui nel campo di Echterdingen Nedo aveva una bellissima voce Nedo cantava molto bene spesso veniva chiamato dalle SS per andare ad aglietare le loro serate e veniva ricompensato con qualche cosa da da mangiare una sera fu chiamato e andò a cantare per le SS alla fine della serata era rimasta delle cose da mangiare e chiese un SS o un amico che sta in baracca a fame gli posso portare qualche cosa questo amico era mio fratello Cesare gli posso portare qualche cosa e questo SS gli disse va bene prendi qualche cosa mi ha raccontato Nedo che rientrò nella baracca e chiamò Cesare e io ho portato da mangiare nessuna risposta Cesare svegliati c'è da mangiare nessuna risposta Cesare non fare il cretino queste sono parole che mi ha riportato Nedo Cesare non fare il cretino c'è da mangiare vieni Cesare era morto era morto di fame perché questo accadeva questo accadeva nei lager nei lager si moriva di fame quando voi vedete quelle fotografie del degli esseri umani che sono ridotti all'arve umane e beh eravamo tutti quanti più o meno nelle stesse nelle stesse condizioni ecco pensate arrivavano trasporti da tutta Europa particolarmente in quel periodo arrivavano trasporti dall'Ungheria e il posto per quello scarso 20% che dove entrare nel lager doveva essere lasciato da quelli che erano arrivati prima allora si susseguivano quelle che venivano chiamate le selezioni di notte o di sera arrivavano le SS accendevano la luce bastoni in mano sempre urlando dovevano denudarci completamente e poi una alla volta uscire da una porta c'erano altri medici delle SS con uno sguardo guardavano chi doveva andare a destra e chi a sinistra a destra tutti quelli che erano la maggioranza tutti quelli che andavano dovevano andare a morire nelle cammere a gas a sinistra quelli e potevano rientrare nella baracca era era il campo di Auschwitz e Birkenau dove io fui deportato era soltanto un campo un campo di morte si arrivava lì la vita media non superava i tre mesi io parlavo prima di dignità sì certo c'era chi manteneva la dignità era capitava a volte qualcuno che si ribellava ma andava incontro alla tortura prima e alla morte poi oppure erano quelli che la mattina uscendo dalle nostre baracche alle quattro e mezza del mattino quando ci veniva data la sveglia trovavamo attaccati al filo spinato dove passava la corrente la corrente all'alta tensione loro sì che avevano mantenuto la dignità ma io ho detto prima e lo ripeto io a 15 anni non volevo morire si rimane aggrappati aggrappati alla vita ora ci sarebbero tante cose da raccontare tante cose dolorose tante cose che potrebbero potrebbero forse a qualcuno di voi potrebbero suggerire una risposta no questo che stai dicendo non è possibile beh no vi assicuro che non c'era niente di impossibile il campo di Auschwitz e Birkenau era stato costruito per dare la morte e per quello soltanto per quello funzionava a un certo punto far morire per gas non era diventare un problema bastavano dieci minuti per assassinare cinque o seicento persone e poi darle le fiamme dei crematori però si era verificato questo fatto che i crematori non erano più sufficienti non bastavano più allora ai margini del campo aprirono delle enormi fosse e noi vedevamo tutto noi eravamo là aprirono delle enormi fosse gettavano dentro le cataste di legna e i cadaveri quelli che erano stati assassinati per gas e davano fuoco accendono fuoco e c'erano questi fuochi che ardevano giorno e notte migliaia di persone dico migliaia di persone ogni giorno voglio raccontarvi anche un altro un altro episodio io ero rinchiuso nel campo nel campo di di Birkenau il campo di di Birkenau era il campo dei condannati a morte come ho detto al lato separato soltanto dal dal filo spinato dove passava la corrente all'altra tensione c'era il il campo e era chiamato lo zigoiner lager ovvero sia il campo degli zingari era era un campo anomalo era un campo anomalo perché c'erano mentre erano noi era soltanto eravamo solo uomini e destinati ad essere assassinati nel giro di certamente di pochi di pochi giorni questa era la nostra sorta e lo sapevamo dall'altra parte c'era la vita vivevano famiglia al completo avevano conservato i loro abiti e quindi c'era tanto tanto colore c'erano tanti bambini certamente molti di quei bambini erano nati dentro quel recinto erano era un campo dove c'era la vita c'erano i bambini che si rincorrevano che gridavano che giocavano la sera rientrando nel campo avevano conservato perfino gli avevano fatto conservare perfino i loro strumenti musicali cantavano facevano musica da noi era solo morte lo sapevamo noi la domanda che ci ponevamo sempre era quella se la mattina era quella se saremmo arrivati a sera con molte probabilità di non arrivare a sera questo dall'altra parte c'era la vita c'era colore c'erano i panni stessi al sole ad asciugare beh io non posso dimenticare la notte del 2 agosto del 1944 eravamo rinchiusi nelle nostre baracche e non potevamo uscire a vedere quello che succedeva a un certo punto sentimmo arrivare l'ESS e tememmo che fosse l'ennesima selezione nel nostro nel nostro campo invece dopo poco ci rendemmo conto che erano dall'altra parte del filo spinato si sentivano all'inizio sentivano grida poi l'ordine di chiudere le baracche e blocco spera blocco spera cioè chiudere le baracche e silenzio un silenzio durato forse per più di un'ora poi riaprirono le baracche fu l'inferno si sentivano i pianti le grida di quelli che venivano colpiti i pianti dei bambini che erano stati svegliati in piena in piena all'improvviso silenzio la mattina dopo alla sveglia alle quattro e mezza del mattino il primo pensiero fu quello di andare uno sguardo dall'altra parte del filo spinato non c'era non c'era più nessuno c'era solo silenzio era un silenzio anomalo era un silenzio un silenzio davvero agghiacciante e ci bastò dare un'occhiata ai camini dei crematori a quelle fosse che andavano al massimo della potenza per capire quella notte tutti tutti quelli che noi chiamiamo io dico rom sinti che noi chiamiamo zingari io non dico zingari lo dico posso dire lo dico con rispetto e con la z maiuscola quella notte tutti tutti i rom sinti del campo e erano stati mandati a morire stavano uscendo dal campo bruciati in quelle fosse o nei forni crematori è stato uno dei momenti più terribili che abbiamo attraversato nel campo perché lì c'era la vita io ho sempre pensato che gli zingari fossero convinti che le attrezzature di morte che del resto erano lì vicino a loro perché il campo era quello più vicino al camera gas e i forni crematori che pensassero che quell'attrezzatura di morte non fossero per loro che un giorno quei cancelli per loro si sarebbero riaperti e avrebbero potuto riprendere le vie del mondo con i loro carri liberi come gli zingari sono sempre stati i zingari non hanno mai voluto confini e pensate invece alla nostra civile Europa quanto tempo ha impiegato per aprire i confini che oggi purtroppo mi sembra che ci sia l'idea in par almeno di richiuderli questo sta accadendo questo è accaduto allora ecco io adesso credo non so il tempo il tempo passa veloce ci sarebbero tante cose da dire da raccontare ma sono sempre tutti fatti tutti fatti di di violenza di violenza e di morte ecco io il 27 gennaio del 1945 fui liberato dalle truppe sovietiche le SS avevano portato via quasi tutti eravamo rimasti su circa 100.000 prigionieri che si davano la rotazione in quel campo eravamo rimasti circa il 7.000 e le SS praticamente ci avevano abbandonato il 27 gennaio arrivarono le truppe sovietiche e fumo e fumo liberi io ricordo perfettamente quella giornata ricordo era la tarda mattinata aprì la porta per andare a prendere un po' d'acqua un po' di neve da sciogliere andando però a cercarla in posti che non fossero troppo contaminati dai cadaveri che giacevano sul terreno e che nessuno toglieva più la gran parte dei prigionieri rimasti là dentro si trascinava sul terreno gelato facendo forza sui gomiti e sulle ginocchia non erano più in grado di tenersi di tenersi in piedi ecco il 27 gennaio le truppe sovietiche entrarono nel campo io fui uno dei primi a vederle aprire la porta della baracca vedi un soldato sovietico vestito di bianco era completamente vestito di bianco sentendo aprire la porta mi guardò mi fece scendo di rientrare io parlai e dissi ai miei compagni che i soldati sovietici erano arrivati ed eravamo liberi non ci fu nessuna reazione nessuno che abbia giochito niente silenzio assoluto nessuno che abbia detto una parola soltanto dopo qualche ora qualcuno ho visto che qualcuno piangeva ho visto che qualcuno pregava tutto tutto qui questa è stata è stata la liberazione di Auschwitz non c'è stata gioia non poteva esserci gioia noi sapevamo già e in partenza sapevamo che difficilmente avremmo voluto rincontrare qualcuno della della nostra famiglia e purtroppo così è stato io sono stato poi prima curato in un ospedale dell'unione sovietica ai piedi del caucaso e praticamente ho ricominciato a vivere e là naturalmente ero in un ospedale a lunga degenza avevo contratto la DBC e praticamente erano nate delle amicizie avevo ricominciato a vivere in quell'ospedale in quell'ospedale lì piano piano ho ricominciato a vivere ecco in vi ho parlato prima di solidarietà voglio aggiungere una cosa qui in sala questa sera c'è una signora una signora che io conosco da quando era da quando era bambina ecco vi racconto questo episodio di solidarietà quando io ritornai dall'inferno ero solo e disperato non avevo più nessuno e non avevo più niente per vivere bene il papà di questa signora che è qui in sala ricordo che mi venne a trovare era il datore di lavoro di mio fratello e di mia sorella chiese notizie e purtroppo le notizie potevo darli io non erano altro che la la catastrofa assoluta non avevo più nessuna speranza che qualcuno dei miei familiari potesse ritornare io ricordo questo questo signore si chiamava Maurizio mi disse senti Piero tu cerca se puoi se hai la possibilità di studiare cerca di farlo perché è importante però se hai bisogno di di lavorare nella nostra azienda un posto per te ci sarà sempre e io mi ricordo la mia risposta detta così dico signor Maurizio io non so fare niente e lui mi rispose che importanza ha se non sai fare niente se non sai fare niente imparerai e beh io sono riondornato a dicembre del 1945 il 2 gennaio del 1946 mi presentai in questo ufficio e mi dissero imparerai beh credo tutto sommato credo di aver imparato la la figlia del signor Maurizio che mi accolse quel giorno e che mi disse imparerai è qui questa sera in sala insieme insieme a noi e la saluto con tanto affetto sì chiudo chiudo grazie mi chiede il mio arrivo il mio arrivo a Birkenau il era dunque farmi ricordare le date perché ho paura di sbagliarne qualcuna era il 15 maggio del 1944 quando ci dissero che il giorno dopo saremmo partiti non ci dissero per dove il giorno dopo fecero l'appello ci consegnarono un pane di quei pani in cassetta che usavano soprattutto i tedeschi e un pezzo di formaggio arrivarono negli autobus escoltati dai carabinieri ci portarono alla stazione dei Carpi c'era un treno che ci aspettava era una giornata calda il treno era sotto il sole ci fecero salire in un vagone io ero con papà e nonno papà non mi lasciava un momento pensava che potessi avere più bisogno degli altri di essere protetto salimmo su questo carro quando fu pieno fino all'inverosimile fu fu chiuso dall'esterno e sigillato il treno rimase fermo fino a sera l'acqua che avevamo portato l'avevamo utilizzata per bere avevamo sete tra l'altro ci avevamo dato anche un bidone da mettere in un angolo del vagone per fare per fare i nostri i nostri bisogni quando fu a sera l'acqua era già finita e noi cominciavamo a invocare e ci venisse data dell'acqua niente da fare il treno partì si fermava in tutte le stazioni erano piccole stazioni tra Carpi e Verona c'era poca gente nelle stazioni nessuno poteva fare niente il treno proseguì ci impiegò tutta la notte per arrivare nella stazione di Verona a Verona arrivò la mattina dopo c'era tanta gente era tanta gente lì in quella stazione e noi invocavamo che ci venisse l'acqua e data dell'acqua c'erano i bambini che piangevano era veramente era non so come descriveri ma era erano dei momenti davvero davvero terribili la sete quando non si può placare la sete e beh diventa una sofferenza indicibile nessuno fece niente io se qua che hanno ormai è passato in un incontro come quello di oggi incontrai una signora mi disse signora Terracina io le debbo dire una cosa io quel giorno ero là nella stazione nella stazione di Verona e mi disse pure non potevo fare niente il treno era sorvegliato dalle SS e non si non potevamo nessuno si poteva avvicinare nessuno si poteva fare niente e io gli dissi soltanto queste parole a quella signora dico signora lei è vero non poteva fare niente ma se là dentro ci fossero state che so delle pecore dei cavalli dei buoi che cosa lei non sarebbe andata avrebbe fatto una telefonata in qualche modo avrebbe raggiunto la protezione animali per dire per dire ci sono degli animali che stanno morendo di sete e lì c'erano gli esseri umani che stavamo morendo letteralmente di sete nessuno fece niente il treno ripartì viaggiò tutto il pomeriggio e la mattina del giorno dopo arriviamo alla stazione di Ura in provincia di Bolzano finalmente aprirono i carri eravamo circa 600 ci fero scendere tutti dei carri e ci dissero di fare i nostri bisogni sulla banchina della stazione quel bidone che ci avevano dato da mettere nel carro prima ancora che il treno la sera partisse era già pieno delle nostre delle nostre dell'ordure che traboccavano per tutto il vagone quindi immaginate in quali condizioni stavamo vivendo vivendo quei momenti a stazione di Ura aprirono i carri ci dissero di fare i nostri bisogni là sulla banchina immaginate 600 persone che contemporaneamente si devono denutare per fare i propri bisogni lì sulla banchina della stazione si dice oltraggio al pudore si è vero oltraggio ma chi l'ha voluto questo oltraggio chi l'ha commesso questo oltraggio poi ci rettero la possibilità di andare al posto di ristoro della stazione avevano formato un corridoio di SS armati di Mitra ci rettero la possibilità di andare a fare rifornimento d'acqua alla stazione di ora c'era la possibilità di poter di poter fuggire perché io girai dietro al bancone e il rubinetto dell'acqua era dietro al bancone a non più di due metri c'era una porta aperta che dava sulla piazza di ora sarebbe bastato fare un salto e trovarsi in mezzo alla folla della gente della stazione di ora e nessuno avrebbe più poter riconoscerli però in partenza ci avevano detto che se qualcuno fosse fuggito dieci prigionieri per ognuno che fuggiva sarebbero stati fucilati nessuno lo ha fatto nessuno è fuggito neppure quelli che non avevano familiari quindi non potevano temere niente per loro questo questo è accaduto comunque la stazione di ora il treno riprese la corsa ancora due giorni di viaggio arriviamo alla stazione di Bonacoli Baviera Est a Bonacoli Baviera aprirono i carri c'era la croce rossa tedesca ci fecero scendere anche là anche lì ci dissero di fare i nostri bisogni su un binario che era dove non c'erano treni che era accanto a quello dove c'era il nostro treno avevano portato una cucina da campo ci dettero una zuppa calda arrivarono con degli tranti e pulirono la banchina e pulirono anche l'interno dei carri e per noi devo dire che fu di grande sollievo anche perché prima della ripartenza c'erano anche della paglia da mettere sul pavimento di legno del vagone devo dire che era un sollievo notevole perché noi avevamo viaggiato quattro giorni e quattro notti in mezzo alle nostre l'ordure il treno il treno ripartì ancora due giorni di viaggio arrivamo nella stazione di Auschwitz il treno rimase fermo tutto il pomeriggio e la mattina del 23 maggio il pomeriggio del 23 maggio il treno si mosse e entrò all'interno del campo di Birkenau il campo di Birkenau è quel campo di cui vi parlavo prima quello costruito con criteri scientifici da persone certamente intelligenti preparate colte soltanto per dare la morte il treno si fermò all'interno del campo di Birkenau davanti ad ogni vagone c'era un SS con un vitra imbracciato e con un canale guinzaglio aprirono i portelloni tutti quanti insieme e cominciò l'inferno scendevano volevano che scendessi o parlavano in tedesco ma c'erano degli interpreti c'erano degli italiani che facevano da interpreti c'erano ci dissero di scendere con i nostri bagagli lasciarli sulla banchina e noi andare a formare due file una fila di donne e una fila di uomini io avevo incontrato i miei fratelli poco dopo poco dopo l'arrivo insieme a loro andammo a cercare mamma e mia sorella Anna poi la vedemmo avanzavano dal fondo del convoglio si tenevano strette mamma aveva capito tutto mamma piangeva ci abbraccia a tutti e ricordo il mio viso contro il suo che si bagna si bagna delle sue lacrime poi c'erano le SS che erano lì vicine e disse andate andate fare presto andate via andate via e aggiunse non vi vedrò più queste sono state le ultime parole le ultime parole che disse mamma e cominciò il massacro prima la fila delle donne passavano davanti agli soldati e ufficiali medici tedeschi e passavano lì davanti destra 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 sinistra cioè praticamente oltre l'80% andavano nella fila della destra non lo sapevamo ancora ma erano quelle destinate alle camera a gas poi quando scesi dal vagone quando andai a rimettermi là mi stavo per andare a mettermi in fila un italiano che faceva l'interprete mi disse quanti anni hai ho 15 anni mi disse guarda ti domanderanno l'età tu dica hai 18 anni io pensai questo è pazzo ho 15 anni perché devo dire che ne ho 18 poi mentre si allontanava si girò verso l'inverno ancora guarda quello che ti ho detto è molto importante tu dica quando ti mandano l'età domanda l'età dica hai 18 anni noi fumo portati in una baracca chiamata sauna messi sul fondo della baracca dove c'era un rialzo di una decina di centimetri saremo stati non so forse 70 80 non di più dovemmo lasciare tutti i nostri vestiti anche la biancheria intima tutti lasciati da una parte e noi completamente nudi in questo spazio arrivarono arrivarono dei prigionieri armati di rasoio e girassero in tutto il corpo dalla testa ai piedi nessuna parte esclusa poi un'altra squadra avevano dei secchi dentro c'era un liquido un erastro avevano degli stracci lo immergevano nel secchio ce lo passavano in tutto il corpo dalla testa dalla testa ai piedi nessuna parte esclusa anche nelle parti nelle parti intime poi ci fecero fare una doccia ci fecero fare una doccia dopo la doccia c'era un tavolo di SS con alcuni interpreti italiani devono riempire la scheda io ho ritrovato la mia scheda nell'archivio di Auschwitz nella scheda c'è scritto Piero Terracione non Terracina come il mio il mio cognome evidentemente avevano sbagliato età anni 18 se io avessi dichiarato la mia età dei miei 15 anni con tutta probabilità avrebbero aperto una porta sarebbe stato mandato dall'altra parte dove avveniva il massacro non c'è dubbio che sarebbe stato sarebbe avvenuto questo a me quel prigioniero quell'italiano che non ho più visto che non so seppure non so chi sia non so se è sopravvissuto o no quel prigioniero mi ha salvato la vita questo questo ha fatto noi formarono queste due file la fila delle donne prima la fila delle donne la stragrande maggioranza oltre l'80% nella fila di destra e poche giovani nella fila di sinistra tra cui mia sorella Anna nella fila di sinistra e mamma e mamma nella fila di destra poi la stessa cosa nella fila degli uomini papà e nonno da una parte io i miei fratelli e mio zio dall'altra questo è stato io dovrei raccontarvi il lavoro 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 massacrante il lavoro nel fango dovevamo costruire dei canali perché quando c'erano precipitazioni si allagava allora attraverso questi canali che andavamo costruendo arrivavano fino al fiume la pistola dove potevano scaricare scaricare l'acqua il lavoro era massacrante io sono arrivato a maggio e poi arrivano i mesi caldi maggio giugno luglio agosto mesi caldissimi non ci veniva fatto rifornimento d'acqua avevamo cioè i prigionieri che erano arrivati prima avevano trovato un sistema che naturalmente ci ci comunicarono subito a noi bastava infilare una canna nella parete che stavamo scavando goccia a goccia scendeva della fanghiglia acqua e terra si lasciava depositare la terra e si beveva quella lì quell'acqua per non morire disidratati certo è una cosa molto strana io non ho mai contratto nessuna malattia per questo non so non so davvero come possa essere accaduto certo è questo che quelli che lì nel campo che moriva c'era un ricambio continuo pensate che la vita media è stata calcolata che ad auschwitz la vita media era di tre mesi quando poi a un certo punto si vedevano quei prigionieri che si trascinavano per il campo facendo forza sulle ginocchia e sui gomiti e quelli erano destinati venivano presi subito e mandati subito subito a morire e questa era la cosa che avveniva ogni giorno dicevo che mi era stato tatuato il numero sull'avambraccio sinistro il mio numero è a 5.506 se io lo dico in italiano semplice posso dire 5.506 5.506 5.506 ma impararlo in una lingua che non si conosce è molto difficile certamente però io a 15 anni avevo un'agilità fisica e mentale superiore a quelli di età più adulta e infatti imparai subito a 5.506 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 indubbiamente a 15 anni c'è un'agilità mentale maggiore per cui non ho mai dovuto subire subire punizioni le punizioni di Auschwitz molto spesso e c'era tutta una scala che arrivava dalle 25 bastonate fino all'impiccagione 25 bastonate che dovevano essere menate da altri due prigionieri con tutte le loro forze per non essere a loro volta puniti l'impiccagione quando la sera rientravamo dal lavoro venivamo fermati in quella che veniva chiamata Appleplatz cioè la piazza dell'appello ma non era la piazza dell'appello l'appello si svolgeva al fianco della baracca e quando venivamo contati non dicevano tanti in tedesco sia pure tanti uomini tanti prigionieri dicevano la parola la stuc dicevano il numero stuc stuc in tedesco significa pezzi non eravamo più persone prigionieri esseri umani eravamo diventati dei pezzi era tutto calcolato psicologicamente è molto più facile eliminare un pezzo che eliminare un essere umano questo questo e soltanto questo era 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 lo scopo ecco io adesso voglio arrivare a una confusione se permettete sono a questo punto sono un po' stanco se permettete ve la leggo in chiusura nel mio intervento voglio rivolgere alcune parole particolarmente ai giovani mi rivolgo a voi perché siete voi che rappresentate il futuro e spetta a voi e soltanto a voi tramandare la memoria la memoria non è il ricordo il ricordo si esaurisce con la fine della persona che ricorda il suo vissuto la memoria è come un filo che lega il passato al presente è proiettato nel futuro e lo condiziona soltanto se farete memoria del passato possiamo evitare che il passato che vi ho raccontato possa tornare l'incontro di oggi avrà un significato tanto più forte quanto più riuscirà a richiamare la vostra attenzione sui meccanismi che hanno reso possibili i campi di sterminio e se riusciremo a rispondere all'interrogativo di come i fatti che vi ho raccontato e tutte le aberrazioni di cui fui vittima in quel periodo si siano potute verificare in un'epoca civilizzata con la partecipazione diretta di un nome enorme di cittadini con il consenso di gran parte della popolazione e non solo nella Germania nazista ma anche nella nostra Italia che non ha mai voluto fare i conti con il proprio passato gli esecutori del massacro erano uomini non erano affamati non erano inferociti da mortificanti condizioni di vita appartenevano alla nazione che era stata la più civile e progredita d'Europa erano persone che amavano le arti la cultura la natura erano persone che presumo addormentavano i figli facendogli recitare le preghiere e raccontando loro una favola chiediamoci allora cosa rese possibili gli eventi incredibili che vi ho raccontato perché tanto odio vi ho raccontato che anche nelle condizioni estreme delle lache nazisti esisteva la solidarietà e l'amicizia ecco tenetelo sempre presente sono valori indispensabili per poter sopravvivere oggi la situazione è diversa non possiamo certamente fare un paragone con quello che vi ho raccontato ma non dobbiamo e non possiamo rimanere indifferenti a quello che sta accadendo con i disperati che arrivano tra noi per sfuggire alle guerre alla fame alle malattie alle persecuzioni ecco concludo con queste parole penso che la memoria della Shoah Shoah è parola ebraica che significa sterminio di istruzione debba rievocare il passato per servire il presente e il futuro siamo qui riuniti oggi per arricchire reciprocamente noi stessi cioè guardarci dentro e capire che gli esseri umani sono siamo tutti uguali e tutti abbiamo diritto al rispetto alla solidarietà e alla libertà questi valori non sono un dono del Signore ma sono un prodotto degli uomini e non sono una conquista per sempre debbono sempre essere sorvegliati e difesi e questo è un compito che aspetta a tutti ma in particolare a voi giovani a cui il futuro appartiene soltanto così il passato non potrà tornare e a voi giovani dico impegnatevi fatelo per voi fatelo per gli altri fatelo per i vostri figli che verranno grazie 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 potete accendere le luci le luci in sala se se c'è qualcuno che vuole fare domande Piero è un po' stanco però ha detto che è disponibile a rispondere a qualche domanda quindi se c'è qualcuno di voi che vuole chiedere qualcosa a Piero ci sono le ragazze in giro per il teatro alzate la mano c'è una vi portano il microfono buonasera buonasera mentre ascoltavo il suo racconto avevo la voglia di chiedere alla fine la sua opinione o magari anche un piccolo consiglio a noi che stiamo vivendo questa cosa di razzismo magari indifferenza tra di noi nella società dopo tutto questo volevo solo dire che è stato un vero onore per me essere qua ascoltare e che spero che questa partecipazione a tutti noi che siamo qua presenti cambi almeno un minimo nel pensiero è che uscendo da qua riusciamo a agire diversamente solo tra di noi se già facciamo tra di noi magari dopo il più grande ci arriviamo ho paura ho paura del razzismo di oggi ho paura che il razzismo di oggi possa diventare come il razzismo di ieri attenzione c'è molta gente ci sono tanti purtroppo sono tanti che hanno non lo so questo non è un sentimento questo che si sentono si possono sentire superiori io non lo so io sinceramente sono cose che non riesco a capire ecco faccio soltanto due esempi io conosco naturalmente vado in giro conosco tanta gente e parlo soltanto dei rom degli zingari io ho conosciuto un uomo straordinario musicista di grande valore e professore universitario Santino Spinelli non so se avete sentito mai questo questo nome professore universitario e anche musicista conosco un'altra signora che è etnologa Roma l'etnia Roma anche lei allora che significa significa che se diamo loro le stesse opportunità degli altri sono esattamente come siamo tutti noi tutti gli altri né più e ne meno ci sarà quello più intelligente e quello meno intelligente ma anche qui tra noi c'è quello più intelligente e quello più meno intelligente ma non esiste il diverso non esiste il diverso per razza soprattutto non esistono razze esiste una sola razza ed è provato scientificamente ed è la razza umana ecco teniamo presente questo e allora io credo che il mondo possa andare meglio di come sta andando oggi questo io credo che sia indispensabile dare le stesse opportunità a tutti e dare le stesse opportunità a tutti e poi vediamo nel giro di qualche anno siamo tutti uguali io poi tra l'altro vado spesso vado nelle scuole molto spesso incontro anche i giovani che vengono dall'estero posso dire anche una cosa a casa mia un ragazzo un ragazzo ormai otto anni per me con un nipote sono otto anni che vive con me e naturalmente con con la mamma che vive sempre anche lei a casa mia beh questo ragazzo è arrivato otto anni fa o nove anni fa non conoscevo una parola di italiano oggi ho avuto ho avuto io la grande soddisfazione di 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 sapere che ha superato un esame di matematica prendendo trenta e lote in matematica chicco il cosiddetto chicco lo sai trenta e lote in matematica e allora vedete che siamo tutti quanti uguali lui quando è arrivato qui da noi non conosceva una parola di italiano veniva veniva dalla Bolivia quindi praticamente dall'altra parte del dall'altra parte del mondo aveva studiato aveva fatto le scuole medie e lì poi ha dovuto ripetere qua la terza media perché non valeva la licenza di terza media che aveva conseguito in Bolivia beh io non dico che è di un'intelligenza superiore è uguale a tutti gli altri soltanto che vivendo a casa mia gli ho dato le stesse opportunità di qualsiasi altro ragazzo e allora è riuscito nella vita e sta riuscendo nella vita ecco questo dobbiamo tenere presente non esistono razze esiste una sola razza ed è la razza umana oggi poi dall'altro con tutte le ricerche che possono essere fatte con i vari esami che possono essere fatte sulle varie persone vediamo che non esiste nessuna differenza tra il sangue per esempio di un bianco e il sangue di un nero o di qualsiasi altra etnia siamo tutti uguali diamo agli altri le stesse opportunità ecco a questo proposito voglio raccontarvi un episodio io tempo fa fui invitato a visitare un campo un campo rom dove erano c'erano praticamente vivono nelle loro baracche beh io dico questo in quel in quel campo di quelli che chiamavano zingomi la fontanella più vicina dove potevano andarsi a lavorare stava a 800 metri di distanza dal posto dove vivono non è giusto non è giusto ci vorrebbe tanto poco mettere delle cisterne dove ci sono questi questi campi nomadi dove dare loro modo di prendere l'acqua di lavarsi e di vivere una vita decente non viene fatto perché non lo so perché non viene fatto io credo che sarebbe importante per tutti dare a tutti le stesse opportunità c'è qualche altra domanda sì volevo chiedere una cosa dopo domani qui a Parma viene inaugurata una mostra molto puoi ripetere scusa sì grazie signor Terracina e grazie a chi ha organizzato questo incontro volevo dire che dopo domani qui a Parma viene organizzata una mostra molto coraggiosa sempre nell'ambito appunto delle giornate per la memoria questa mostra è dedicata a tutti gli omosessuali diversi che sono stati anche loro vittime per l'appunto di razzismo e delle leggi razziali volevo chiedere non si parla mai dei come anche visto che lei ha parlato di diversi e soprattutto che non ci sono diversi e ha parlato anche dei dei fratelli zingari lei ha cognizione sa qualcosa circa appunto le discriminazioni e come sono stati trattati per l'appunto gli omosessuali che venivano portati nei campi di concentramento ma io è vero che non non si parla mai del delle persecuzioni negli omosessuali oggi particolarmente adesso molto di quelli che erano una volta dei valori sono venuti a cambiare ma io dico che sono hanno tendenze diverse da quelle della maggioranza ma sono esseri umani pure loro e quindi praticamente io direi che non è giusto che siano trattati diversamente da tutti gli altri uomini quello che posso dire che può in un certo senso causare qualche risentimento è l'esibizione quella non l'ammetto l'esibizione non l'ammetto però se ci sono due persone dello stesso sesso che vogliono vivere la loro vita e le loro tendenze beh perché no io non ho niente assolutamente contro io non sono assolutamente contrario a queste cose sono tendenze che hanno non sono da condannare io dico che non sono da condannare l'importante è che si comportino da cittadini normali come tutti gli altri questa mostra verrà inaugurata a San Quirino nella chiesa di San Quirino domani mercoledì pomeriggio alle 18 17 30 se qualcuno è interessato no evidentemente non li conosce non fa parte della sua esperienza perché lui ha avuto un'altra storia per rispondere ah ecco ho rovesciato il bicchiere vabbè allora a Roma però se ne parla perché insomma anche noi sia come progetto memoria sia al centro ebraico pitigliani abbiamo fatto per due volte un incontro con un gruppo nuovo che si è costituito credo da un paio di anni un gruppo lgbt di ebrei tra l'altro e hanno fatto hanno preparato insomma un intervento molto interessante hanno parlato due tre persone e devo dire è stata una cosa che ci ha arricchito anche tanto quindi insomma noi abbiamo cercato di parlarne e come ha detto Margherita non fa parte dell'esperienza di Piero e quindi ovviamente può raccontare quello che che lui ha visto qualcun altro vuole chiedere qualcosa a Piero c'è una domanda qui ce n'è una là poi ce n'è una qui davanti io le volevo chiedere se ha avuto occasione in questi anni di incontrare o di vedere anche in televisione qualcuno dei suoi aguzzini e che cosa ha provato e poi se è tornato ad Auschwitz e cosa ha provato in quel caso quando è tornato lì grazie sono tornato diverse volte ad Auschwitz lo sento come un dovere per accompagnare soprattutto le scolaresche i giovani in occasione dei viaggi della memoria per la verità da un paio d'anni ho smesso ad andarsi perché sinceramente era diventato per me un po' un po' troppo troppo faticoso no incontrare i miei giovani là sarebbe impossibile come potrei intanto chi li ricorda e poi perché dovrebbero stare là se oggi esistono ancora le aguzie di allora ebbè si sono andati partiti si sono andati all'estero molti sono emigrati in Sud America eccetera però certamente non li ritrovo non li ritroverei oggi ad Auschwitz buonasera lei ha perdonato beh lo dico molto chiaramente no non ho perdonato non sono colpe che non si possono perdonare attenzione con questo io non voglio dirvi che se ne avessi avuto l'opportunità mi sarei vendicato non sarei stato capace di vendicarmi se io mi fossi vendicato sarei sceso allo stesso livello dei miei carnefici dei miei aguzini quindi vendetta no ma giustizia si avrei invocato giustizia ma non non vendetta non fa per me la vendetta ma giustizia si buonasera lei ha vissuto un'esperienza terribile ma anche come ha detto fuori da un'immaginazione quando è tornato come ha cambiato il suo modo di vedere il mondo che a noi tante piccole cose sembrano così grandi ma poi messe a confronto sono niente e lei come ha visto questa cosa ma non posso dirlo se è cambiato il modo di vedere il mondo io non penso non penso che che per me sia cambiato il modo di vedere il mondo posso posso casomai eventualmente ragionare su alcuni particolari ma non il mondo in generale no assolutamente no io del resto nella vita nella mia vita del dopo posso dire di aver avuto una vita assolutamente normale ho avuto una vita con tante tante amicizie e tanta solidarietà tanta gente che mi ha voluto bene tanta gente che me ne vuole io oggi ancora sono sempre in contatto con tantissima gente che incontro incontro nelle scuole dove vado a portare la mia testimonianza e devo dire che il che il modo di il modo di vedere il mondo non è assolutamente cambiato per me io nel posso dire di aver avuto due vite ho avuto una una prima vita che vada quando sono nato fino praticamente al giorno in cui sono tornato sono ho avuto una una prima vita piena di di affetto piena di gioie era il più piccolo della famiglia quindi il più coccolato ho avuto una seconda vita ugualmente piena di gioie piena di amicizie soprattutto che sono molto importanti ecco l'amicizia insieme ho parlato di alcuni valori ho parlato della solidarietà ho parlato dell'amicizia ecco l'amicizia è uno dei più grandi valori della civiltà io posso dirvi questo io ho avuto purtroppo del di sopravvissuti e ce ne sono stati molto pochi bene io oggi posso dire che ho un amico che posso considerare mio fratello è scampato pure lui al lager e abbiamo preso delle strade diverse siamo rincontrati dopo tanti anni e oggi il nostro direi il nostro affetto proprio un affetto che è un affetto fraterno ci sentiamo più fratelli che e ci sentiamo amici ma più fratelli che amici il nostro sentimento è questo 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 sopravvissuto lasciò anche lui anche lui si dedica molto alla alla testimonianza probabilmente in questi giorni nei giorni della memoria penso che l'avrete visto chissà quante volte anche in televisione si chiama Sami il suo nome è vero è Samuele ma il diminutivo è Sami Sami Muriano per me Sami è come un fratello abbiamo possiamo dire che non solo ci sentiamo e ci vediamo ci vediamo spesso ma il sentimento è quello che conta siamo come fratelli siamo fratelli i gozani eppure si tratta l'amicizia è nata esattamente nel 1944 è nata mi ricordo anche il mese il mese di settembre del 1944 è nata la nostra amicizia nel lager di Birkenau io vi di arrivare questo ragazzo ancora ancora più picco di me lo vedi arrivare ad Auschwitz era un po' un po' sperduto era stato deportato con la madre con il papà e con la sorella aveva perso il papà e la sorella abbiamo cominciato a parlare è nata l'amicizia e posso dire che e allora questa amicizia è servita è servita tanto a tutte e due e questa amicizia ancora oggi ancora oggi serve tanto a tutte e due ci vogliamo bene come si possono vedere bene due fratelli Samy ricordate questo nome lo vedrete qualche volta in televisione qualche volta vedete anche me si chiama Samy Moriano e ce l'ho fatto anche adesso recentemente in televisione diverse trasmissioni alle quali ha partecipato anche lui ecco io e Samy siamo come fratelli grazie a tutti grazie a tutti del tuo racconto buonasera a tutti grazie 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 a tutti